Il più grande cambiamento che ho visto in questi anni è stato quello della consapevolezza, maggiore consapevolezza da parte delle aziende sul fatto che operano in un ambiente che non è sicuro. Io sono cresciuto un po' con il motto dove la sicurezza era il fattore abilitante per l'uso professionale di internet. Oggi le aziende questo l'hanno capito, per cui considerano oggi la sicurezza come una cosa seria, come un asset critico a livello aziendale sia per la protezione dei dati, ma anche e soprattutto quando devono erogare dei servizi rivolti al business. E questo è un aspetto assolutamente positivo ed è dal mio punto di vista il più grosso cambiamento, quindi questa maggiore consapevolezza di doversi dotare di strumenti di sicurezza efficaci ed efficienze per poter proteggere i dati e tutti gli asset aziendali. La cosa che invece non è cambiata molto negli anni, specialmente se parliamo di aziende medio-piccole, è un approccio un po' reattivo, per cui specialmente nelle aziende medio-piccole si tende ad investire su alcuni servizi di sicurezza, su alcune contromisure di sicurezza, solo e esclusivamente dopo che un danno o comunque un tentativo di attacco c'è stato. Le aziende quindi oggi che sono più consapevoli anche dei rischi che corrono andando in questo ambiente dove il cybercrime ormai è diventato uno dei maggiori crimini a livello worldwide e dietro al quale ci sono delle organizzazioni criminali vere e proprie, è quello di doversi dotare di strumenti adeguati per avere una sicurezza adeguata a queste nuove minacce. In più, quello che chiedono è di avere strumenti per il controllo della sicurezza in azienda. In alcuni casi, specialmente nell'ambito del nord, ci sono le banche che hanno bisogno di basse latenze, per cui anche le performance delle soluzioni di sicurezza sono un punto importante. E in ultimo, ma non meno importante, il know-how delle persone che operano poi su questi sistemi. Ad esempio, lato nostro, oggi abbiamo presentato il programma di partnership e abbiamo visto come curiamo sempre più un discorso di specializzazione delle persone che operano in questo campo all'interno dei nostri partner e sui nostri clienti. Quello che vedo è, da un lato comunque, ancora una certa reticenza ad affidarsi al cloud, soprattutto perché esistono anche dei vincoli normativi nel non poter dare determinati dati verso l'esterno, specialmente se parliamo di aziende della comunità europea, a dare ad esempio alle aziende statunitensi che sono fuori dalla CE stessa. Allo stesso tempo, in Italia c'è una, secondo me, valida offerta di cloud, anche da parte di nostri partner che possono essere sia system integrator che società di consulenza, ma anche soprattutto società di telecomunicazioni con cui noi collaboriamo e che oggi stanno già erogando servizi di sicurezza all'interno del cloud. Quindi le aziende sempre più stanno approcciando anche questo tipo di tematica e richiedono comunque sicurezza. Noi come Fortinet aiutiamo le aziende in tal senso perché abbiamo un sistema che è aperto a tutti i principali player in questo settore, per cui con la nostra tecnologia riusciamo a dare le stesse funzionalità che riusciamo a dare in un ambiente wired, che riusciamo a dare in un ambiente wireless e le possiamo portare anche in un ambiente cloud based. Grazie. Grazie. Grazie.